Buongiorno, benvenuti in Soltec Shop. Oggi mostriamo due esempi di cestelli, un monoposto e un biposto. In questo caso sono il CAQ1 e il CAQ2. Un cestello fondamentalmente è composto da tre macro componenti che sono molto evidenti, che sono la gabbia, il braccio e il pistone. Il disegno di Soltec permette di fare il livellamento mediante il rubinetto idraulico montato sul pistone. Il livellamento viene effettuato aprendo o chiudendo il martinetto. In questo caso quando apro il martinetto, giustamente il livellamento scende. Quando invece lo devo chiudere perché faccio operazioni, per esempio utilizzando un trapano con una facciata di un edificio, è necessario giustamente chiuderlo in modo tale che non ci sia l'oscillazione continua della gru o del cestello. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.